ciao a tutti sono alessio 19 870 altro gameplay di resident evil 6 via dopo aver affrontato quel mostro di schifoso che sarebbe laos che ho detto per il precedente com'era e sarebbe faccia teschio colpo gelatinoso tentacoli corpo a metà che sembra il capo del generador e adesso l'ho affrontato adesso ando avanti qua questo corridoio via continuiamo qua che stavo vedendo qua c'è le munizioni qua a terra che sono grande corrosive 40 mm perfetto cartucce perfetto mettiamo il fucile ecco qua diceva qua andrà in fondo non dice niente sopra semina laos o cazzo ancora vivo ecco figlio di puttana oh oh cazzo cazzo striscia striscia oh ce l'ho fatta non riesco a passare cazzo lo spalagli e muoio oh sì no no filmato no che succede no ma che cazzo e poi l'avevo fatto fuori la parte precedente figlio di puttana la puttana la puttana e la puttana e la puttana e la puttana giù e pure devo stiminare questo stronzo salvataggio riparto da qua allogate corrosive e cartucce andiamo avanti eccola eccolo eccolo ecco figlio di puttana si oh oh già scatta 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 noi no ce l'ho fatta questa mano di merda si si oh si oh ce l'ho fatta che c***o e si già questo qua non molla ci vada e vai Ecco, no, ancora questa mano di merda Ma le prendi Oh sì Eh, levati Levati, levati, levati Se lo fatti, no No Capitano Cazzo Cazzo Non molla, eh, questo house di merda Cazzo, guardate Guardate, guardate, colosive, cartucce Guardate, eccolo di nuovo Ecco Dillo ancora Figlio di puttana Figlio di puttana, bastardo Dai Ecco La mano di merda Eh sì Ok Ok, 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 ok Scivolata E vai No Eh sì Oh Come sbatte Ok Oh Ok Via 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 Viscata Oh c'è Che cuno ce l'ho fatta Via 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 Oh 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 Pierce Dai 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 Ce l'ha fatta Sì Ce l'ha fatta Pierce Oh Checkpoint Dai 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 Perfetto Ce l'ho fatta Allora Allora Lompiamo questo emblema Qua pistola C'è proprio vicino ce l'avevo l'emblema Allora Qua Mettiamo il fucile Via Roger Ah per qua Eccolo Laos Segna Laos Oh Eh sì Già Via 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 Ma cosa Oh cazzo C'era proprio il dito di me Via 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 Oh Proprio incazzato proprio Via 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 questo stronzo bravo Chris bravo che botta aia gli ha rotto il braccio Pierce uuuuh miiii ecco la presa anche lui mamma mia molla molla mi caspa è quello è il campione di qualcosa che aveva Pierce sconfiggi laos mollami mollami pezzo di merda che ha Pierce che ha il braccio robo no lo ho tagliato ha perso il braccio completamente e Pierce recupera quel coso quel campione lì che cos'è che cos'è è solo inietta non so cos'è cos'è ma vediamo se è un virus letale è filmato eccolo Chris è ancora bloccato qualcosa si è iniettato uuuuh che cazzo sconfiggi laos con vici laos minca Pierce si è iniettato qualcosa e ha detto uuuuh che scossa elettrica che cazzo di virus è ecco tagliata a metà oh mi sono liberato oh mi sono liberato aspetta vedete il braccio suo sembra Yachtini un tyrant con l'elettricità oh Pierce cosa hai fatto eh infatti eh 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 nooo si è iniettato qualcosa guarda il braccio gelatinoso come il tyrant c'è gli artiglion tyrant eh c'è il braccio aspetta gelatinoso artiglion tyrant e c'è un'elettricità pazzesca l'auto eccolo uuuuh è gelatinoso tipo il virus C una crisale è diventato cazzo eh eh e e dove boh oh i punti queste casse punti io andare avanti controlliamo e poi andiamo ad apirsi cazzo di legno munizioni eh ho capito un attimo un attimo qua punti punti munizioni munizioni ok abbiamo questa porta qua esamina punto le pressurizzazioni avviate si cosa ma che è ancora in vita eh amma mia oh c'è le bolle rosse si si cazzo oh chi lo ha scossa elettrica devo batterlo e ora sale si uh visto che c'è la scossa elettrica oh oh devo sconfiggerlo eh ecco ecco quale tuo punto debole quelle cose quelle bolle rosse che c'è lì nei fianchi che schifo voglio vomitarmi addosso eh vai Pierce con quella scossa elettrica i poteri del frutto frutto del mare dell'elettricità uh ha colpito mamma mia visto che ha perso il braccio orribile uh oh figlio di puttana oh oh guardalo pezzo di bastardo ma sei scorretto eh oh oh compresse due eh no tentacoli oh si no ma guarda questo oh ma neanche il tempo di rialzarmi cazzo oh devo cercare di sconfiggerlo ma io le ganate sperca ma il mo' sono cazzo i tuoi oh ma cosa è morto è peggio uh bravo Pierce l'ha tagliata a metà bravo oh si no si di genera no l'ha bloccato bravissimo bravo bravo Pierce adesso ma che diavolo eh si uh eh si io io so qual è il tuo punto devo quelle cose rossi nei fianchi quelle bolle grosse poi ti colpisco oh oh dai hai Pierce di bravo cazzo ma qua c'è un cecchino oh che schifo ah tu salti eh come oh cazzo poi prendi oh oh ho finito i colpi quelli acidi regalate acidi e finite cioè per quelle esplosive dai vieni qua forza oh si bravo Pierce ah cazzo sbagliato il tasto che prende il fucile cecchino oh oh si di ciao arrivederci no no tutto bastardo ancora io dov'è Pierce eccolo boom uh gli occhi sembra di un giuavo compresso tutto e tre va ecco che esce di nuovo e non molla eh oh si perfetto c'è un'altra bolla da da colpire e no eh no è mancato bastardo devi prendere eh eccola nooo cazzo ne manca una bolla oh e no eh vai 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 bastardo oh che culo cazzo sembra un fucile quello che sta usando Pierce con la mano destra anzi il braccio destro oh dai vieni vieni su ma non così non mi colpisci con i tentacoli di merda oh oh si ho colpito oh si oh oh colpito oh si colpito nooo ma che cazzo muo è andata a Grisailer si allora dai ancora ancora oh si r1 e beccati questo colpito una bolla oh ne ho ancora dura ecco il tuo punto debole uva l'arma di Pierce funziona cosa si dice nooo si dice bastardo cazzo eh non è facile battere nooo l'ha tolta il punto di partenza oh oh pistola e no eh oh ma che cazzo no 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 ti prego ti prego no 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 oh eccolo Pierce ecco no più compressi però c'è lo spray medico uso eh oh si e ti dico, lo uso lo spray medico anche se è l'ultimo oh oh cazzo colpia con le bolle mamma mia lao sarà altri poteri colpia con l'altra bolla dai, girati oh sì e sì di genere fucile, fucile, fucile ma funziona funziona un cazzo i colpi non funzionano oh oh esci di nuovo oh sì oh sì che colpia qua eh oh 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 no 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 colpia lì nel fianco la bolla lì nel fianco oh sì stronzo figlio di puttana mi colpisci mi colpisci non mi colpisci no bastardo ti colpisce la bolla da qua oh sì ma è mancato oh sì oh ti copri quella bolla di merda eh cazzo vai oh sì oh sì no cazzo cazzo oh bravo Pierce adesso R1 è la seconda bolla è la seconda bolla è andata a fare il culo e ho ancora una devo usare questa tattica ancora devo usare questa tattica un'altra volta e poterlo battere ottimo eccolo oh sì dai che dobbiamo correre la bolla fitto oh sì oh sì bolla è andata a fare il culo c'è ancora quell'altra cazzo no 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 eh oh sì e vai figlio di puttana tu guarda questo l'altro dai eh non ho più boom eh non ho più compresse sprevedici porca miseria dai esci esci da dai dai oh sì mangiaganate dove sei eccolo ho solo ma io ho pochi colpi devo essere più che sufficienti per batterlo dai scendi oh oh no non posso correre bastardo stardo dai scendi scendi avanti che te le do di santa ragione scendi su dai oh sì non vuole scendere devi scendere pezzo di merda niente da fare non molla scendi no no una bolla mi mancava scendi laus vaffanculo ecco esci fuori si ah però riparto con lo spray medico e 5 compressi molto bene io ho capito no capito oh no eh oh oh cazzo partire proprio a quel punto cazzo quei tentacoli non li voglio tra i piedi vai Pierce grande tu guarda questo essere c'è i tentacoli di nemesis è il terzo capito di Resident Evil bastardo dai che schifo oh sì una buona andata cosa cosa che cos'è no è una bomba figlio di puttana no fanculo sto stronzo mo li devi prendere di santa ragione sconfiggi laus adesso mo li prendi eh fatti incazzare quelle bolle te te ti faccio resisti mantieni il controllo sì faccio scoppiare quelle bolle di merda ragazzi vai Pierce con quella scossa elettrica disintegra no con i tuoi poteri speciali oh che schifo è acido no tutto bastardo occhio eh vedi che sono delle bombe oh cazzo oh 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 sì oh sì in altra via una bolla lo colpiamo l'altro sul fianco eh scendi bravo oh sì e scoppia vai dentro a Crisaide no esci fuori eh già dai colpire la bolla mentre esce ok oh sì oh sì rotta una bolla c'è ancora l'altra oh boom oh oh compressa no 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 ecco il PC pezzo di bastardo no maledetto eh oh sì colpita la bolla oh 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 ma guarda un po tutte dai non è mai che ho fatto un po' di scorta non ancora bravo Pils sì oh sì la bolla è andata ne ho ancora due ma ancora due dai che ti batto cosa cazzo fai che cazzo fai ecco un'altra volta che cazzo fai ah ti esci fuori ah cazzo oh 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 che schifo vai Pils quella scossa elettrica dai no tutto pezzo di meta oh vedo qualcosa punti munizione bellissimo quello che ci voleva oh sì una taffanculo una bolla sì vai Pils ecco la tua mossa speciale scossa elettrica oh sì oh tentacoli via guarda Aristote oh oh no 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 ecco dentro là uno vai Pils colpiscilo bravo Pils e due e vai ancora una bolla che ho sconfitto ho pochi colpi c'è aspetta sì ce la posso fare abbatte questo stronzo dai un'altra volta in quella cosa dai oh ho pochi colpi non voglio spiegare tutti dai esci fuori oh sì dai scendi devi scendere oh oh no 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 quelle bombe no esplodi ah sono esplodi cosa ha lasciato munizione pistola dove sei dove sei eccolo fanculo ecco ho pochi colpi ho pochi colpi della pistola via cambiamo oh oh no eh colpito là oh sì dai oh sì ho pochi colpi oh sì oh sì cecchino cecchino oh sì una burra andata devo cambiare le ganate dov'è? dov'è? eccolo non funziona le ganate ah cazzotto però e si gira ah ecco dai mi occupo di qua ah ecco oh oh non mi hai preso eh pezzi di merda no hai mai preso lo sapevo ti colpisco no ottimo ok c'è un ganate esplosive però per usare quelle ok dai vieni oh sì no ho mancato e non mi prendi non mi prendi sono una bolla da far fuori dai coppie con la bolla di ecco sì non la vedo non la vedo eccola dai cazzo ma poi lì doveva mettersi mamma mia dai girati coglione poi capito di girarti adesso ti ti prendo la sprovvista oh bravo Pierce no ok hai Pierce attacco ottimo 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 beh con una bolla poi l'ho sconfitto dai ancora no oh sì no avevo quasi sconfitto cazzo oh che schifo la nazione ti sto per battere ti bastardo dai scendi oh bravo Pierce ottimo lavoro oh sì perfetto e non mi prendi si e vaffanculo ha preso io ma ti colpisco a bolla oh sì esploso vai fucile bravo Pierce l'ultimo colpo no 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 ecco sì oh sì boom ce l'ho fatta e ce l'ho fatta dai dai ti colpisco dai 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 cerchio coltello coltello oh sì oh sì dai 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 si ce l'ho fatta no no mancava poco merda no poi tocca di farlo un'altra volta ah no adesso riparto da qua ti ho sconfitto perfetto pensavo di riparti tutto da capo ti ho colpito dai sconfiggi laos l'ho quasi fatta no dai non devo sbagliare questa qua cerchio adesso rotella dai 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 oh sì di ciao arrivederci oh e che cazzo oh sei morto figlio di puttana oh filmato ecco ecco pirs con quel braccio yes ecco coraggio forza tieni duro andrà tutto bene mi spiace capitano eh eh l'ho fatto per la mia sera eh per il futuro sì lo so hai fatto un ottimo lavoro eh eh mamma mia no non voglio sentirlo oh ce ne andremo entrambi da qui chiaro sì mamma mia braccio ah orribile scappola complesso sottomarino progetto di defessurizzazione completo si erba verde ce la faremo pesce esatto sì aspetto aspetto vediamo se c'è un'erba rossa poi andiamo avanti lo sconfitto quel figlio di puttana ce ne andremo rossa così a combino no niente combiniamo e la uso ok andiamo qua si è aperto si apre oh un corridoio boom si chiude la porta ora devo scappare da questo eh eh si boom boom oh vediamo andata con una crisaride no è bloccato si ok vai pierce bellissimo con la scossa elettrica rompe le crisaride bravissimo oh si si oh cazzo escono i golem via vai pierce no l'ha colpito golem regati in questo golem di merda ok bravo pierce scappiamo sembra è enorme questo coglione manca poco dai ok guardi oh cazzo un golem bravo pierce via 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 ce l'ho fatta ce l'ho fatta scappato da questo corridoio di corridoio che non non solo i mostri ma anche le altre cose dai l'ho filmato ecco ah io non ce la fa più eh eh no no andrà tutto bene eh sì ci siamo quasi sì qui crolla tutto ecco dai sì ottimo ecco sì mamma mia che faccia mamma mia come se come di se fosse un giuavo cos'è il suo braccio oh oh forza ci sono sì ha aperto la capsula bravissimo via via ecco questo ora ce l'è sì oh ha preso la mano sinistra dai scappiamo cosa fai dai andiamo vai boom lo spinge e chiude la capsula apri la porta apri la porta apri la porta eh eh sì eh no sì dai non farlo no è affatto no 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 dai ecco no boom carpaccia mamma mia che urlo no vuole sacrificarsi no e scappa dalla capsula che sacrificio no che succede ehi è capsula ma cosa è ancora lui è ancora vivo non è possibile l'aus no no l'ha preso bastardo che ho fatto fuori prima che faccia una scossa elettrica e lui è piercer boom uh bravo l'ha disintegrato ottimo e la guadalatoria esplode sacrificandosi piercer e piercer ha fatto piercer ha fatto la brutta fine filmato uh fuori dove non lo so si apre la capsula no guarda attorno non c'è nessuno cosa è in mano lo stesso lo stesso l'abbia ah di piercer guarda attorno un elicottero perfetto per portarlo in salvo ecco qua boom immagini se piercer e chris stavano all'inizio della campagna cioè lui era un uriaco di spiegare beh ho finito anche la campagna di chris mi rimane qua di jake da fare insomma questa campagna eh niente male che si sacrifica proprio pazzesco mi rimane solo la campagna di jake per completare il residentivo a 6 a meno che non c'era un'altra campagna di jake poi lo scoprirò aspettavo che finiscono i titoli ecco ecco altre immagini ecco il giuvovo giuvovo con un po' di ali con gli ali di merda c'è un'altra immagina alta destra allora se sconfigge quell'house non è stato facile che succede si muove ecco altre immagini ecco pierce è quello che è non mi ricordo che è quello lì è un po' difficile con i titoli vogliamo che succede dovrei vedere i risultati la campagna di Chris che ho completato finalmente nella prossima parte la campagna di jake poi dopo vediamo se c'è un'altra campagna ecco Ada la seconda campagna è completata e devo fare la terza è un'altra campagna vediamo un po' ecco il zestro ah il virus che ha colpito i soldati cazzo si muove ancora ecco ad un'altra volta vediamo un po' cosa succede? ecco si muove ancora ora orione qui se faccia faccia ad alle sue spalle ecco belle le canzoni belle belle dai queste canzoni si muove quello l'aereo sembrava un missile la cazzo è come il trailer non 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 ma questi titoli non finiscono più perché ecco ecco Chris Chris e Jake faccia a faccia con Pierce e Sherry c'è Jake Sofia e Eminem di faccia si è come è come estrella sta canzone e dopo le campagne devo fare aspetta ecco con la faccia che sembra un giulavo mamma mia è orribile come ha detto prima che c'era il braccio così poi dicevo dopo le campagne farò i mercenari e caccia all'uomo quindi in ordine prima pisco tutti i mercenari e poi faccio la caccia all'uomo ecco capcom ma resident evil 6 diceva il trailer beh dopo quella di Chris quella di Jake che devo fare vediamo i risultati e poi mi fermo qua caricamento che succede caricamento che succede filmato no aspetta che cavolo ecco filmato il bar dove inizio lì ecco Chris persa una bistecca una bistecca che aveva preso Pierce che è caffè che è caffè ha preso un agente dell'ABS a a a ecco si ferma capitano capitano abbiamo abbiamo nuovi ordini quali? ecco 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 Grazie a tutti. Grazie. Ok. Ho terminato qua. Salvataggio. Boh. Vediamo un po'. Allora. Campagna. Sì. Quindi mi rimane, ecco. Lì, Chris. Jake. Mi rimane solo a campagna di Jake. Poi vediamo se c'è un'altra campagna da fare. Per completare il gioco. E' un po'. Allora la prossima parte è come farlo. Ecco. Ecco qua Jake. E Sherry, la figlia del Dottor Birkin. Quale è l'esentivo? Il 2. Ok. Allora la prossima parte è come farlo. Fallo. Allora. Ok, torniamo indietro. Ecco la schermata iniziale bellissima. Resentivo 6. Ok. Ok. Posso fermare qua. Nella prossima parte farò la campagna di Jake. E ho completato due campagne. Adesso lo fa la terza. Poi vediamo se c'è un'altra campagna oppure no. Per finire qua. Bene. Quindi. Vi dico che finisce qui il gameplay di Resident Evil 6. Quindi un ciao da Alessio19870. Al prossimo gameplay.